analizziamo il bilancio delle potenze in un motore al rotore bloccato o all'avviamento che è lo stesso allora abbiamo l'impedenza equivalente riportata allo statore data dalla somma delle due componenti resistiva R1cc e reattiva X1cc questa impedenza la possiamo riscrivere in forma polare come modulo quindi radice quadrata della somma dei quadrati delle due componenti reale immaginaria e la fase data dall'arco tangente di parte immaginaria X1cc diviso la parte reale R1cc con l'espressione dell'impedenza possiamo ricavare il valore efficace della corrente assorbita dal motore al rotore bloccato data dal rapporto del valore efficace della tensione monofase di alimentazione diviso il modulo dell'impedenza Z1cc quindi V1f diviso la radice quadrata della somma dei quadrati della componente resistiva al quadrato più la componente reattiva al quadrato questa rappresenta la corrente assorbita al rotore bloccato che prende il nome di corrente di spunto del motore in quanto è la corrente che il motore assorbe all'avviamento quando è ancora fermo e rappresenta la massima corrente che viene assorbita dal motore nel suo funzionamento questo valore per un rotore a gabbia di scogliato lo può assumere valori anche di 8 fino a 8-10 volte il valore della corrente nominale di funzionamento quindi un valore molto importante e molto impegnativo sia per il circuito sia per i dispositivi di protezione del motore quindi è chiaro che l'avviamento rappresenta un momento critico nell'alimentazione del motore la potenza assorbita in queste condizioni al rotore bloccato è data da 3 volte la potenza assorbita dal circuito equivalente monofase quindi 3 volte la v1f per i1cc per il coseno di phicc dove phicc rappresenta l'angolo caratteristico dell'impedenza equivalente al rotore bloccato quindi rappresenta la fase appunto l'angolo caratteristico come detto dell'impedenza equivalente al rotore bloccato la potenza assorbita stiamo parlando ovviamente di potenza attiva se la riportiamo con la tensione di alimentazione concatenata sarà quindi il radice di 3 volte v1 i con 1cc cosfi cc dove cosfi cc il fattore di potenza del motore a rotore bloccato questa è la potenza assorbita a rotore bloccato continuiamo nell'analisi e sappiamo che il motore rotore bloccato non ha nessuna potenza resa in quanto appunto il rotore essendo fermo non c'è non è possibile nessun trasferimento di potenza verso il carico meccanico quindi potenza resa in queste condizioni uguali a zero e quindi il rendimento dato dal rapporto tra la potenza resa e la potenza assorbita deve necessariamente essere zero quindi il motore a rotore bloccato presenta un rendimento uguale a zero questo significa che tutta la potenza assorbita viene dissipata dal motore sotto forma di perdite analizziamo adesso quindi i componenti di questa potenza assorbita che sono le perdite del motore a rotore bloccato quindi abbiamo come detto che la potenza assorbita è uguale è soltanto alle perdite quindi è una potenza che viene dissipata sotto forma di calore dal motore nel circuito equivalente possiamo vedere che la potenza persa è data dalla potenza che viene dissipata negli avvolgimenti del negli avvolgimenti sia di statore che di rotore quindi le perdite nel rame più le perdite nel ferro che si hanno in queste condizioni di funzionamento quindi perdite per isterici correnti parassite nel materiale ferromagnetico più le perdite addizionali dovute a varie fattori come la forma delle cave ad esempio quindi abbiamo perdite nel rame perdite nel ferro e perdite addizionali queste sono le tre componenti della delle perdite nel rotore nel motore a rotore bloccato adesso abbiamo che le perdite nel rame quindi abbiamo detto saranno date da da componente di statore sommata la componente di rotore analizziamo queste due componenti separatamente per quanto riguarda lo statore abbiamo che nei tre avvolgimenti le perdite nel rame saranno ovviamente date da tre volte le perdite nel singolo avvolgimento quindi tre volte r con uno per i con uno cc al quadrato e queste sono le perdite nel rame di statore passiamo al rotore abbiamo che le perdite nel rame di rotore saranno anche se date da tre volte le perdite nella singolo nella singola fase equivalente di rotore quindi tre volte r2 per la i2 cc al quadrato la corrente di rotore al quadrato sappiamo che la r2 rispetto alla resistenza del secondaria riportata al primario è r2 primo diviso k zero quadro sappiamo anche che la i2 cc allo stesso modo è legata alla corrente di reazione di statore come ui con uno cc per k zero quindi se utilizziamo queste due relazioni nel calcolo delle perdite nel rame di rotore sostituendo i valori abbiamo tre volte r2 primo fratto k zero quadro r2 primo fratto k zero quadro che sostituisce la r2 moltiplicato per la i con uno cc al quadrato k zero quadro quindi si semplificano i2 k zero quadrato nel prodotto e otteniamo tre volte r2 primo per i con uno cc al quadrato adesso se ricordiamo che la resistenza del rotore riportata allo statore è data da r2 per k zero quadro l'espressione diventa questa tre volte r2 k zero quadro i con uno cc quindi complessivamente sommando adesso le due componenti delle perdite nel rame di statore e di rotore quindi abbiamo detto abbiamo calcolato prima più le perdite nel rame di rotore quindi queste sono le due componenti che adesso andiamo a sommare quindi abbiamo nello statore 3 volte r1 per i con uno cc al quadrato più le perdite nel rotore 3 volte r2 k zero quadro i con uno cc al quadrato quindi raccogliendo a fattore comune abbiamo 3 volte r1 più r2 k zero quadro che moltiplica i con uno cc al quadrato ovviamente e quindi in definitiva saranno pari a tre volte r1 cc per i con uno cc al quadrato come era chiaro guardando il circuito equivalente del motore in condizioni di rotore bloccato quindi in definitiva riscriviamo le perdite nel rame sono date da 3 volte r1 cc per i con uno cc al quadrato evidenziamo anche questa relazione che ci consentirà di determinare le perdite nel rame